Ridurre da 60 a 50 il numero dei consiglieri a Palazzo Lascaris, tagliare il budget a disposizione dei gruppi consigliari e introdurre la doppia firma per le sedute di consiglio e di commissione. Ecco la spending review secondo il Carroccio, una revisione dei costi della macchina amministrativa che in regione punta a far risparmiare ai contribuenti 17 milioni di euro. Due le proposte di legge, la prima punta alla riduzione dei consiglieri, 10 in meno a partire dalla prossima legislatura, 10 poltone vuote che farebbero risparmiare alle casse dell'ente tra stipendi e benefit 140 mila euro al mese, vale a dire quasi 8 milioni e mezzo di euro in 5 anni. La seconda proposta punta invece a tagliare del 50% i budget a disposizione dei gruppi consigliari, un milione e mezzo di euro in meno all'anno, che sommato al taglio dei rimborsi aerei per le missioni permetterebbero un risparmio di 7 milioni di euro. Oggi ciascun consigliere ha a disposizione un carnet di 11 biglietti aerei per la tratta a Torino-Roma, più i rimborsi per tre viaggi Torino-Bruxelles. Verrebbero cancellati i rimborsi per Bruxelles e ridotti a 6 i voli spesati per Roma. Stesso discorso per i rimborsi chilometrici, verrebbero calcolati solo più in base alla distanza dalla resistenza del consigliere più vicina alla sede del Consiglio regionale e non più da quella di effettiva partenza. Si pone l'obiettivo di dare sostanzialmente risposte alla gente fuori dai palazzi, lo facciamo in maniera seria, come la Lega è abituata a fare, senza mettere delle bandierine ideologiche, ma cercando di rispondere ai problemi. Crediamo di aver individuato la strada giusta. E poi, per scoraggiare l'assenteismo durante i lavori dell'Aula, l'obbligo della doppia firma per certificare la presenza durante le sedute del Consiglio e delle Commissioni. Per ciascun giorno di presenza ad una riunione istituzionale, un consigliere regionale porta a casa infatti 122 euro di indennità, che si sommano i 2735 euro di assegno mensile di base, uno stipendio che in base alle cariche e dalle responsabilità sale in proporzione fino ai 4911 euro per il Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.